Vendita, assistenza e riparazioni di motocicli e biciclette Manca abbigliamento moto e caschi Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote A Voghera, in piazza Garibaldi 12 Questa è una responsabilità precisissima dell'amministrazione comunale di centro-destra Che ha abbandonato il servizio di farmacia sulla sanità Barbieri abbandona i cittadini E' meno e freghismo, è superficialità estrema Non partecipare alla conferenza dei sindaci E non rispondere assolutamente, non intervenire sulla calendarizzazione Non l'hanno neanche vista Pierezzo Ghezzi usa parole dure per attribuire la responsabilità all'amministrazione di centro-destra In merito al cambio di calendarizzazione sull'apertura notturna di una farmacia voghera Regione Lombardia ha rivisto gli ambiti numerici all'interno dei quali garantire il servizio notturno delle farmacie A TS Pavia, l'azienda di tutela della salute, ha convocato Federpharma ed i sindaci della provincia Spiega il consigliere comunale del PD Per dire loro i dettami della nuova legge e per capire la loro posizione rispetto al fatto che nei loro comuni Si è garantito il servizio di farmacia notturna I primi cittadini sono stati chiamati venerdì 12 maggio, incluso Barbieri Ma il sindaco di Voghera non si è presentato e non ha inviato delegati Lasciando carta bianca agli altri comuni Il giorno 15 maggio viene inviata a Barbieri una email con richiesta di parere ed espressione Ma il sindaco non risponde Superato il termine ultimo dei 15 giorni, la nuova calendarizzazione prende il via senza che Barbieri si sia minimamente interessato Secondo il PD sarebbe quindi responsabilità della giunta Barbieri Il fatto che dallo scorso primo giugno la città di Voghera abbia solo 9 volte al mese la possibilità di trovare una farmacia aperta di notte Che è sprovvisto di automobile come farà? E chi uscirà dal pronto soccorso e sarà costretto a recarsi nella farmacia di turno più vicina Per esempio a Santa Giuletta o Godiasco come potrà fare? E quando a novembre e dicembre ci saranno ghiaccio e nebbia notturni come verranno tutelati i cittadini? Le domande che Pierezzo Ghezzi rivolge al sindaco Barbieri sono numerose Questa è una responsabilità molto forte E noi interverremo sia in consiglio comunale a settembre, adesso non facciamo più in tempio E cercheremo di capire con la TS, con i farmacisti di Voghera e con l'ordine dei farmacisti Insieme a loro se sia possibile, in tempi non brevi, ma se sia possibile cambiare i turni